Ciao a tutti, ben arrivati! Oggi vi farò vedere come si fa un trucco a cuore sull'occhio. Quindi iniziamo. Tre colori, tutti sul bianco, rosa e rosso, quindi un colore da femminuccia. Siete pronti? Cosa ci serve? Trucchi per face painting, spugnetta, pennelli e qualche glitter brillantino. Vediamo come viene. Iniziamo. Grazie per l'attenzione, al prossimo video! Ciao!